Sindaci del Terramano e dell'Aquilano, PD rappresentato anche da Manolau di Pasquale, con i consiglieri regionali Dino Pepe e Pierpalo Petrucci sul piede di guerra per l'esclusione di ben 15 comuni del clatere Terramano su 16, compare solo Teramo, dalla carta degli aiuti varata dall'Aggiunta regionale. Stessa situazione dell'Aquilano e altri territori del Pescarese è argomento per il quale Petrucci nei giorni scorsi ha condotto uno sciopero della fame, interrotto soltanto per la rassicurazione di inserire l'argomento della discussione in consiglio regionale martedì prossimo. Un dissenso che si è manifestato da parte di molti comuni del clatere delle aree interne. Già a novembre, all'indomani dell'approvazione della carta degli aiuti, Pietrucci, Pepe e Mariani fecero le loro rimostranze. La carta degli aiuti ha senso proprio laddove arriveranno risorse del PNRR. L'aspetto sottolineato dai presenti è che non c'è stata nessuna condivisione con i sindaci né con i sindacati. Questa situazione arrega ai comuni del Terramano gravissimi danni, soprattutto ai comuni del cratere esclusi. Sono 15 comuni su 16 esclusi da questa opportunità della carta degli aiuti e adesso con il PNRR SISM, cioè con gli oltre 800 milioni a disposizione delle aree e cratere, non avere la carta degli aiuti e quindi la possibilità di intensificare gli interventi sulle imprese è davvero un danno economico e sociale importantissimo sulla provincia di Terramano. Pensiamo ai comuni come Montorio, che hanno aree industriali importanti, pensiamo al distretto turistico dei prati di Tivo, completamente esclusi da questa opportunità. Anzi, altre località, magari delle vicine marche, saranno avvantaggiate, poiché lì tutti i comuni del cratere sono stati inseriti all'interno della carta degli aiuti, invece il Terramano è completamente escluso, tranne il comune capoluogo che è Terramo. I comuni vanno reinseriti, hanno ribadito Pepe e Pietrucci. Più che carta degli aiuti attaccato Pepe si può definire carta della discordia. Per Pepe ci sono territori come Montorio, che è area industriale o è prateditivo, che saranno penalizzati in particolare. La speranza è che alla faccenda si metta una pezza, si può fare. I comuni vanno reinseriti tutti, dicono, altrimenti gli investimenti andranno altrove, deve essere una battaglia di civiltà di tutta la regione. Ma sulla base di questa novità, quindi degli 800 milioni di euro a disposizione delle aree cratere, ovviamente si può negoziare con l'Unione Europea. Io mi auguro che Marsilio e la Giunta regionale facciano un'analisi concreta, sana, per ridare questa opportunità anche al territorio terramano e aquilano.